Quest'anno abbiamo un calendario importante di grande rilievo e attività per tutto il mese di maggio. Cominceremo domani con le milioni in piedi organizzate dalla Green Sport. La sera ci sarà l'inaugurazione della mostra d'arte presso il Museo Archeologico di Gela. Poi proseguiamo con una serie di mostre, workshop e concluderemo il 21 maggio con la visita notturna alle mura, un evento davvero incredibile e straordinario. Tra l'altro quest'anno la manifestazione è inserita tra i più importanti circuiti di promozione e valorizzazione della regione Sicilia, nel Dipartimento Beni Culturali, in eventi e sagre in Sicilia, in archeologia ritrovata e, cosa più importante, nella Notte Europea dei Musei, quindi all'interno di una piattaforma di promozione europea del patrimonio archeologico. Il giorno 13, nelle vetrine che sono state regalate dal nostro club al Museo Archeologico di Gela, verranno esposti dei reperti che escono per la prima volta dai depositi del museo e quindi è un modo di rilanciare un pochettino l'attività culturale della nostra città. Un museo senza ricerca e senza la conservazione dei beni non ha un futuro e quindi è giusto che noi rimarchiamo, attraverso iniziative fatte anche fuori dal nostro istituto, quello che si fa all'interno dei musei. Si inserisce all'interno di questo percorso la rete del cantiere Gela, una serie di associazioni, gruppi e movimenti che vogliono rimettere al centro la loro funzione pedagogica, quindi per noi diventa interessante per ridare ai cittadini una sorta di cittadinanza che parte appunto dalla cura e rigenerazione dei beni comuni. Per questo motivo insieme il 15 maggio ci prenderemo cura di questo bene che sono i bagni greci di Capo Soprano per ridargli dignità. L'obiettivo però è rendere perenne la presenza dei cittadini all'interno di questi beni. Noi stiamo organizzando per la primavera dell'arte una grande mostra di pittura laddove abbiamo invitato pittori di Gela e di fuori, sono presenti Ottaviano di Ragusa, pittori di Agrigento, di Formigine, di Milano, di tutta Italia, pittori come Tono Zanganaro, Andrina Bertelli, Antonio Chipindi di Gela che presenta tre bellissime produzioni e tanti altri pittori di Gela che sono il bando della nostra città come Pinotucci che attualmente gli abbiamo realizzato una grande mostra andologica a Palazzo Ducale.